Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la palacanestro Varese che, all'esordio in campionato, supera 83-82 l'estra Pistoia sul parquet dell'Itelium Arena di Masnago. I biancorossi vincono una gara sofferta, nella quale gli ospiti dominano gioco e risultato fino a pochi minuti al termine, prima che Moretti prenda Varese per mano e la conduca alla vittoria, siglando 11 punti nell'ultimo quarto. Da rivedere la lotta a rimbalzo per i biancorossi, che soffrono fin troppo la fisicità dei lunghi toscani, e più in generale una chimica di squadra ancora tutta da costruire, male le prove di Shahid Eulani, mentre si riscatta Brown, che mette a referto 16 punti.